L'arrivo dell'industria automobilistica e dei modelli cinesi sul mercato europeo è uno dei grandi temi dell'attualità, è una realtà qui al gruppo Pieralisi, realtà storica dell'auto sul territorio, gruppo Pieralisi che con la sua svolta guarda anche ad oriente e come è nata questa opportunità? L'opportunità l'abbiamo colta l'anno scorso quando questo gruppo attraverso dei personaggi che già conoscevamo che stavano all'interno di Stellantis ci hanno offerto di coprire il mercato sulla parte centro nord delle marche, abbiamo cercato di valutare se i prodotti erano compatibili con il mercato che già avevamo coperto negli anni, questi marchi sono diventati subito interessanti perché sono marchi che coprono un segmento premium e che per noi era un compensare comunque una gamma che nel tempo stava comunque alzandosi di livello e quindi abbiamo compreso che stavano cercando di sviluppare una rete in Europa molto solida e stabile e quindi abbiamo detto sì. Che tipo di prodotto porta l'industria cinese sul nostro mercato? Nell'arco di due anni i cinesi arriveranno in Europa con tanti marchi quanti ce ne sono già, quindi arriveranno con una trittina di marchi, questa produzione è una produzione alta, di livello alto, noi siamo andati a cercare proprio un livello, uno standard qualitativo alto, era l'unica cosa che ci interessiamo. Su quali tipi di modelli sta lavorando in particolare il gruppo Pirelisi appunto? Noi non lasceremo mai la strada da dove veniamo, quindi continueremo a vendere Citroen, quello che il marchio ormai Stellantis ci offre, ma ripeto in questo momento è quasi impossibile per chi sta nel settore dell'automobile fare a meno di parlare cinese, perché indubbiamente hanno un ingresso in Europa talmente tanto forte e impattante che chi non sceglie comunque di mixare i brand, il prodotto, per me rimane indietro. Quali opportunità offre al consumatore l'arrivo di questi modelli? Moda e Giacu, ripeto, offrono comunque uno standard qualitativo alto, un comfort e un'esperienza di guida molto interessante. Chi ha la vettura già da un mese ne scopre comunque le qualità e quello che è più interessante per noi, il feedback che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere anche all'interno degli showroom, è che il cliente si trova di fronte a un prodotto che non è low cost come si immaginerebbe chiunque affronta il mondo cinese, ma è un prodotto per il quale tutti quanti pensano che il costo sia inferiore a quello che vale. Il prodotto c'è, va bene, abbiamo snellito molto quello che è anche il confronto che c'è con il cliente perché i brand europei hanno due caratteristiche che sono un pochettino anacronistiche, una che vanno costruite, quindi vanno agganciati tutti gli optional di cui uno ha bisogno e quindi poi alla fine questo prezzo che parte da un prezzo start molto basso poi tende a lievitare. In questo caso loro sono molto più puliti e netti, cioè i modelli sono questi, hanno tutto. Quindi anche per il cliente diventa tutto molto più trasparente. Il cliente arriva qui, questo è il modello, c'è tutto, non devi aggiungere nulla, il prezzo è quello. Bene, io riparto da dove ha finito Giovanni. In realtà questa relazione tra Piera Lisi e Moda EJQ nasce dal nostro rapporto d'amicizia ma soprattutto dalla qualità del lavoro del gruppo Piera Lisi che nelle marche è una realtà importantissima. Quindi oggi sono più famosi i Piera Lisi che i moda EJQ e noi vogliamo insieme a loro far conoscere questi due brand. Ci stiamo espandendo, siamo partiti ad agosto, a settembre siamo già a 500 immatricolazioni, siamo sopra brand molto più blasonati. Ma perché? Perché la qualità dei nostri prodotti e soprattutto la qualità della nostra rete ci sta facendo immediatamente avere una velocità molto elevata. Vogliamo fare grandi risultati e con una rete di questo tipo e con concessionari di questo tipo in ogni singolo territorio veramente siamo convinti di poter raggiungere risultati rilevanti in poco tempo. Il network è molto importante per noi perché la soddisfazione del cliente è legata alla qualità e la capacità dei concessionari. Abbiamo già un centro di cambi ad Arcese, lo dico perché a volte dietro al prodotto nuovo c'è sempre il dubbio del cliente. Allora ci sono sette anni di garanzia a 150.000 km, abbiamo già un centro di ricambi vicino Milano di oltre 1.000 m2 con 8 milioni di stoccaggio di pezzi di ricambio, quindi consegniamo grazie ad Arcese in 24 ore in tutta Italia. Abbiamo una logistica che è già molto sviluppata e facciamo arrivare le vetture in realtà dalla Cina in 90 giorni, ma notizia ancora più importante è che il gruppo Ceri, che è la holding che detiene i marchi o mode JQ, ha acquistato una fabbrica in Spagna dove fra un paio di mesi inizieremo a produrre le vetture, quindi produzioni, come diceva Giovanni, che partono anche dal cuore dell'Europa. I nostri marchi vogliono essere internazionali, vogliono soddisfare le esigenze e i bisogni dei consumatori europei e soprattutto italiani.